Ciao a tutti sono Titan, scusate un attimo che mi sto spostando comunque oggi sono qui con il secondo video registrato da giornata che comunque vedrete fra un po' di giorni, a un po' di distanza dal primo che è la recensione di Lost Boy di Webby & Corday boh allora, iniziamo con questa recensione qui parlerò della serie tv di Scream, le prime due stagioni per ora e farò un video anche sulla terza quando uscire in italiano adesso non è anche finita, mi pare che sono un tipo tra puntata in America quindi dovrete aspettare ancora un po' allora, secondo me la serie è superiore a quasi tutti i film di Scream se la gioca col primo, ma non saprei da un bel po' che non vedo primo ovviamente sappiamo tutti che Scream, il personaggio, cioè il soggetto è Ghostface o quel serial killer con la faccia da fantasma ideato da Wes Craven, pace all'anima sua e anche in questa serie appunto Wes Craven è produttore esecutivo allora, queste due stagioni mi sono piaciute abbastanza è una serie carina, sì ci sono alcuni momenti che non mi sono proprio piaciuti molto che mi hanno fatto storcere il naso per come sono state girate alcune scene però bisogna dire che riesce a fare, cioè riesce nel suo intento perché non è il suo intento tanto spaventare perché sì c'è qualche jumpscare ma niente di incredibile vuole angosciare lo spettatore facendo credere che ogni personaggio in qualsiasi momento potrebbe morire e questa è una cosa che ho apprezzato veramente molto poi la storia è scritta abbastanza bene tra le ultime due puntate della seconda stagione che sono state buttate lì un po' per allungare il brodo non so neanche onestamente perché vabbè ma vabbè possiamo anche soprassedere su queste il resto è stato abbastanza bello la protagonista Emma Duvall figlia di Kevin Duvall l'unico sopravvissuto alla follia omicida di Brandon James che non comparirà molto Kevin ci sarà solo la seconda stagione vabbè non voglio spoilerare troppo ci saranno alcuni spoiler ma niente di assurdo boh ci saranno tre killer vi dico già vabbè i primi due poi uno che dura tipo una puntata che appunto nel finale di questa no dura due puntate che sono le due unite in una che vanno da finale che fungono da finale della seconda stagione vabbè interessante sta serie per chi ha visto il film e gli è piaciuto consiglio di vederla perché è scritta abbastanza bene è girata bene gli attori hanno recitato abbastanza bene anche le scene delle varie morti sono oneste ci stanno sono sicuro meglio di tutti i film di Scream dal secondo in poi anche del secondo ovviamente col primo come ci ha detto se la giocano quindi se volete vedere una serie leggera che però allo stesso tempo un po' vi angoscia vi mette in cuglietudine Scream è quello che fa per voi e ve la consiglio perché è carina non è per niente male per chi volesse vederlo l'ha già vista vi avviso che nella terza stagione ci sarà una terza stagione che stanno già girando in America ma non è ancora uscita in Italia perché appunto deve ancora finire anche oltreoceano e inoltre ci saranno dei personaggi diversi da quelli che ci hanno fatto conoscere nelle prime due questo era solo titolo informativo beh grazie per aver visto questo video ci vediamo alla prossima ciao